Approvato con oltre il 99% dei voti esprimibili il bilancio d'esercizio del credito valteinese, il via libera è arrivato nel corso dell'assemblea ordinaria svoltasi oggi a Milano. L'intervento dei soci è avvenuto esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, una modalità che si è resa necessaria per rispettare le regole dettate dell'emergenza sanitaria. La banca ha chiuso il 2019 con un utile netto consolidato di 56,2 milioni di euro in crescita del 77% rispetto ai 31,7 milioni del 2018. Significativo il rafforzamento della solità patrimoniale. L'assemblea ha anche approvato con il voto favorevole del 99,71% del capitale presente alla proposta della Consiglio d'amministrazione di destinar l'utile ed esercizio 2019 della capogruppo di oltre 59.233.470 euro per un importo di oltre 55 milioni a copertura delle perdite pregresse riportate a nuovo, per 2.896.000 a riserva legale e per 1.308.000 a riserva indisponibile. L'assemblea ordinaria, si legge nel comunicato diffuso alla termine dei lavori, ha deliberato di promuovere con il voto favorevole del 88,72% del capitale presente l'azione sociale di responsabilità nei confronti di alcuni ex amministratori, sindaci e componenti della direzione generale in carica nel periodo 2008-2016. In sede straordinaria l'assemblea ha approvato con voto favorevole del 99,71% l'operazione di raggruppamento delle azioni ordinarie prive del valore nominale in circolazione, secondo il rapporto di un'azione ogni 100 azioni ordinarie della banca esistenti. Il raggruppamento, spiega la banca in una nota, consentirà di portare benefici in termini di volatilità e liquidità dell'azione e di migliorare la percezione del titolo Creval da parte del mercato riposizionandolo in termini di prezzo dagli istituti bancari comparabili.